Sono arrivate le mascherine di Regione Lombardia. 3.300.000 mascherine in distribuzione gratuite in tutta Lombardia. Saranno distribuite in settimana presso farmacie, supermercati, negozi di vicinato, tabaccai, poste e banche. Ho in mano una mascherina che fa parte del gruppo di 25.000 che sono state consegnate oggi a Sesso San Giovanni. Questo è l'ennesimo segnale di attenzione da parte di Regione Lombardia. I camion della protezione civile Lombarda stanno distribuendo queste mascherine nelle diverse province lombarde. Grazie a tutti. Purtroppo in tutte queste settimane ci si aspettava che il governo a Roma lavorasse per fornire le mascherine a tutte le regioni. Purtroppo non è stato così. E questo devo dire che evidenzia la gestione dell'emergenza purtroppo non all'altezza da parte di chi ci governa a Roma. La Regione Lombardia ha fatto tantissimo in queste settimane pesantissime, aumentando in maniera incredibile i numeri dei posti in terapia intensiva e arrivando anche ad aprire in questi giorni proprio gli ospedali a Fiera, Milano e a Bergamo. Ora l'indicazione rimane sempre la stessa. Restate a casa e se uscite usate qualche tipo di protezione a partire proprio da questa mascherina.